Dov'è finito tutto l'amore? L'amore per un lavoro che era tutto noi stessi e a volte anche oltre. L'amore che dava un sapore a ogni cosa. Quell'amore che ci aspettava solo per una carezza. Chi ne è stato dell'amore che fa crescere un figlio? C'è più amore o cemento nelle nostre case? Dove sono finite le parole d'amore e il coraggio di amare? Forse ci siamo stancati di amare o abbiamo perso il controllo? Perché? C'è più amore? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.